3 a 7 meno spese per il Comune. Sì, è un piano nazionale voluto dal Governo con la legge di stabilità del Parlamento. Catania è una delle prime città da avere aderito. Nel 2012, quando inizia l'attività di razionalizzazione con la precedente amministrazione, c'erano 22 aziende particolate e controllate. Alla fine del percorso scenderemo a 7, eliminando consigliere di amministrazione, eliminando spese. Noi prevediamo un risparmio complessivo alla fine di 2 milioni di euro l'anno, di minori costi, e ricavi di circa 40 milioni di euro, che potranno servire a migliorare radicalmente il servizio, la qualità. Inoltre, dei servizi decisivi, perché c'è di mezzo la MT, c'è Sostale, c'è la Sidra. Insomma, Catania razionalizza, modernizza e rende efficiente un servizio che aveva bisogno di questo tipo di interventi. Alla fine, soltanto 7 partecipate rispetto alle 23 originali. ASEC Trade verrà ceduta? ASEC Trade verrà sostanzialmente dismessa l'attività di ASEC Trade relativamente ai contratti e soprattutto verrà privatizzata, entrerà un privato dentro ASEC, Sostale finisce dentro a MT e sarà un'unica azienda che gestisce tutta la mobilità nella città, compreso il parcheggio, quindi con anche nuove iniziative di modernizzazione. Avremo anche qualche nuovo parcheggio che affideremo a Sostale, l'azienda municipale Trasporti nella zona del cosiddetto Del Pino, vicino Corso Sicilia, 4-500 posti auto nella città nel giro di qualche mese. Grazie.